Musica Bella a tutti ragazzi, eccoci qui con la quinta giornata di Serie A Live Fiorentina Juventus Scegliamo le maglie, facciamo subito la formazione Adesso cercherò di fare la formazione più simile possibile Quindi 3, 5, 2, ma non così però E aspetta, 3 Vabbè dai proviamo a farla così Perché non voglio perdere troppo tempo Quindi mettiamo, intanto, sembra il mio giocatore virtuale che rompe le palle Allora Buffon in porta Poi Linksteiner, Barzagli e Chiellini Qua ci mettiamo, eeeh, chi cazzo c'è qui Eeeh, non ne ho la minima idea Aspetta, Pirlo Vidal qui Marchisio qui Questo lo leviamo Aspetta De Ciglie lo leviamo e mettiamo Asamoa Anche se non è lì ma è più avanzato Però, addio Pirlo, Asamoa, Vidal, Marchisio Poi mettiamo John Gavucin C'è qua, chi cazzo c'è? Eeeh, aspetta, vediamo chi c'è Non ne ho la minima idea Non mi ricordo per ora Ci mettiamo No, Elia, che cazzo dico? Isla Ci mettiamo Isla E si parte con la partita subito Questa partita sarà difficile Parlando nella realtà Per ora la Juventus ha fatto 4 vittorie su 4 partite Questa però, come ho detto prima, è una partita abbastanza difficile Visto che la Fiorentina ha cambiato quasi tutta la squadra Ed è molto forte E si parte subito con la partita Palla alla Fiorentina Si inizia con Berami Jovetic Passaggio per Amauri Amauri si gira Trova un varco Amauri Allarga la palla Ma Cicchellini Affermare l'azione avversaria Quindi adesso Marchisio Marchisio per Isla Vucinic Vucinic Si allarga Vucinic Sulla fascia sinistra Passaggio Intercettato però Rimessa laterale per la Juventus Con Cicchellini Cicchellini Vucinic Ce n'era di rigore Vede Isla Isla Il tiro a giro Isla Boruc Boruc Come si dice non lo so La para senza problemi Quindi passaggio per Vargas La partita di Lazzari Lazzari Passaggio per Montolivo Montolivo per Berami Allarga tutto per Cassani Cassani Jovetic Scusate Amauri Amauri Prova a sfondare Amauri Amauri in area di rigore Amauri Amauri in area di rigore Gigi Buffon Senza problemi Gli ruba la palla Quindi passaggio Per Vucinic Vucinic Asamoah Asamoah Atenta Passaggio filtrante alto Ma niente da fare C'è Gamberini Ma Vucinic recupera palla Solo per un attimo però Natali Passaggio per Vargas Vargas viene prestato Ma riesce a effettuare il passaggio Ancora Vargas Vargas Insiste Lazzari Lazzari Cambia gioco Passaggio per Cassani Cassani se ne va Passaggio per Berami Berami ancora Cassani Ma Marchisio Ferma il passaggio Per Vucinic Vucinic Isla Isla Larga Per Vidal Vidal Passaggio filtrante Per Vucci Per Jovinco Jovinco Cross in mezzo Nelle parti Nelle parti di Vucinic Colpo di testa Centrale però Nessun problema Per il portiere della Fiorentina Che spazza sotto Jovetic Di testa Però Barzagli Ferma tutto Barzagli Passaggio per Marchisio Marchisio Isla Vucinic Vucinic Prova a sfondare Niente Si gira Passaggio di nuovo per Isla Isla Jovinco Prova a sfondare Jovinco In area di rigore Jovinco Il tiro La parata Calcio d'angolo Per la Juventus Molto pericolosa In questa azione Calcio d'angolo Battuto da Pirlo Parla nel mezzo Nelle parti di Chiellini Di testa Niente da fare Tiro debole Palla ancora la Juve Però Con Asamoah Molto arretrato Passaggio per Vidal Vidal Ancora lui Insiste Per quella fascia Vidal Sbaglia passaggio Quindi Berami Berami per Cassani Prestato da Vucinic Cassani Berami Passaggio Lungo per Amauri Montolivo Viene fermato da Isla Ora Vucinic Vucinic Passaggio alto Per Isla Jovinco Adesso Jovinco Il tiro di Jovinco Fuori di pochissimo Jovinco Molto pericoloso Un'altra volta Ma niente da fare 32esimo Siamo ancora Sullo 0-0 Invio Dal fondo Troppo di testa Ora Linksteiner Vidal Vidal Ancora Tiene palla Vidal Vidal Vede Jovinco Passaggio In area di rigore Viene fermato Da Vargas Molto bene Rimesso a laterale Per la Juventus Quindi Vidal Linksteiner Ancora Vidal Vidal Passaggio per Jovinco Jovinco Isla Isla chiuso Ancora Jovinco Allarga Per le parti di Vidal Che mette un cross in mezzo Nelle mani del portiere Però Quindi Boruc Passaggio Corto Per Cassani Cassani Berami Passaggio dall'altra parte Nelle parti di Lazzari Lazzari allarga Per Jovedic Che allarga Sua volta Per Vargas Vargas In area di rigore Vargas Il tiro Gigi Buffon Parata Quindi Marchisio Asamoah Asamoah Con la sua velocità Passaggio per Vucinic Vucinic viene fermato Ancora palla per Asamoah Marchisio Marchisio Isla Vucinic Vucinic Passaggio per Isla Che se ne va Isla Isla In area di rigore Il tiro palo Palo di Isla E finisce così Il primo tempo Più Juve Che Fiorentina Ma risultato fermo Ancora sullo 0-0 E si parte subito Con il secondo tempo Con Vucinic Vucinic Ancora Passaggio Per Vidal Vidal Ancora Vucinic Vucinic Ancora Vidal Vidal Prova Niente da fare Fermato Quindi adesso Lazzari 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 si ferma E passaggio Per Jovetic Jovetic Tiene palla Jovetic Molto bene Jovetic Ancora La serie di finte Ma c'è Samoa A fermare tutto Ma palla di nuovo Alla Fiorentina Con Montolivo Vargas Vargas Tiene palla Passaggio per Lazzari Lazzari si accentra Ma viene fermato Perfettamente Da Samoa Che tenta il passaggio Ma intercettato Quindi rimessa laterale Per la Juventus Linksteiner Vidal Isla Jovinko Jovinko Prova A sfondare Ma niente da fare Si ferma Il passaggio per Isla Isla A Samoa Siamo a Marchisio Che sbaglia il passaggio Ma Cade a terra E recupera palla Marchisio Combatte Marchisio Sulla faccia sinistra Non c'è nessuno in mezzo Marchisio Metta adesso il cross in mezzo Nelle partite di Jovinko Ma niente da fare Intercettato Quindi adesso Jovetic Jovetic per Berami Berami Ancora lui Viene fermato Da Chiellini Chiellini Jovinko Isla Isla Vucinic Ancora Isla Che prova Ma niente da fare Viene fermato Ancora una volta Dalla difesa Dalla Fiorentina Quindi adesso Amauri Amauri Se ne va molto bene Amauri Passaggio per Berami Berami ancora Amauri Può mettere un costo in mezzo Ma Niente da fare Ancora però La Fiorentina Berami Viene fermato Da Barzagli Senza fallo Quindi la Juve Può ripartire Con Barzagli Che tiene palla Passaggio filtrante Sbagliato però Quindi Nastasic Nastasic Rischia un po' Ma se la cava Adesso Montolivo Montolivo Cassani Cassani sbaglia Passaggio Ma recupera palla Ancora Cassani Che viene fermato ancora Ma ancora Cassani Insiste Lazzari In area di rigore Lazzari Lazzari Ancora Il tiro Fuori di niente Pericolo Per la Juve Ma niente da fare Ancora 0-0 Quando siamo al 72 Quindi Pirlo Pirlo che non si è visto Nel primo tempo Adesso Giovinco Adesso Giovinco Giovinco Passaggio filtrante Sbagliato Gammerini Gammerini Cassani Cassani Ancora Cassani Viene fermato da Vucinic Rimesso a laterale Per la Fiorentina Cassani Passaggio per Berami Berami Montolivo Lazzari Che viene fermato da Pirlo La Juve può ripartire Con Isla Passaggio per Giovinco Viene fermato subito Da Nastasic Adesso Vargas Vargas Per Lazzari Lazzari Finta Riuscita Ancora Vargas Il tiro Da lontanissimo Ma Molto molto alto Nessun problema Per Gigi Buffon Passaggio corto Per Pellini Pellini allarga Per Marchizio Marchizio Sbaglia Passaggio Cassani Le può recuperare Adesso Oliveira Oliveira Sulla fascia destra Viene disturbato Ma resiste E c'è Chiellini Intercetta E Calcio d'angolo Per la Fiorentina Mette il cross in mezzo Ma c'è Isla Disturba Quindi Oliveira Adesso In area di rigore Oliveira Passaggio per Giovitic Però In posizione di fuori gioco Quindi calcio di punizione Per la Juventus Gigi Buffon Spazza via la palla Nelle parti di Giovinco Ma niente da fare Fiorentina Con Vargas Ci prova Oliveira Ancora Fiorentina Con Berami 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 Passaggio per Oliveira In area di rigore Viene fermato Però Ancora però Fiorentina Oliveira Berami Passaggio per Oliveira Il tiro in rete Ma niente da fare Goll annullato Per posizione di fuori gioco La partita si sta svolgendo Al termine Quando siamo ancora A 0 a 0 Ancora palla Però per la Fiorentina Berami Viene fermato da Isla Passaggio filtrante Fermato da Berami Che continua Ad avanzare Ora Cari Carcia Carcia per Giovitic Giovitic Passaggio filtrante Nelle parti di Non so chi Il colpo di testa Di Oliveira Ma niente da fare La partita finisce qui Sullo 0 a 0 Partita diciamo Combattuta E quindi il video di oggi Finisce qui Fiorentina 0 Juventus 0 Voi lasciate un mi piace Commentate E ci becchiamo Al prossimo video Bella Grazie a tutti per la visione Grazie a tutti per la visione